E chiamo sul palco Alberto Baban, presidente di Venet Network, Marino Quaresimin, direttore del Dipartimento di Tecnica e Gestione dei Sistemi Industriali dell'Università di Padova e Norberto Roveri, professore ordinario di Chimica Generale dell'Università di Bologna. Benvenuti e grazie. E chiamo Marino Smiderle, redattore capo del giornale di Vicenza, per intervistarli. Grazie. Come giornale di Vicenza siamo contenti di avere questa opportunità, di questa anteprima di Festival del Futuro e sono convinto che l'importanza dei relatori che abbiamo qui oggi avrei l'ambizione che alla fine di questo incontro qualcuno dicesse che in realtà il futuro è già qui. Perché io penso ad alcuni film di fantascienza che vedevamo qualche anno fa dicendo wow, adesso invece ci sono delle applicazioni, delle innovazioni applicate che vengono trasformate in realtà e anche in progetti economicamente importanti. Siamo in un momento difficile, anche oggi i dati del Covid non sono incoraggianti, ma credo che questa sia proprio l'occasione di vedere un po' oltre, di vedere un po' oltre attraverso le diverse competenze che ciascuno di noi ha, che ciascuno di questi importanti relatori ha, perché il futuro si costruisce in collaborazione tra le varie competenze. E' chiaro che il punto principale da dove si comincia l'innovazione teoricamente c'è dove c'è la ricerca, dove si studia, dove si guarda avanti, dove le competenze partono a livello teorico. E io partirei proprio da questo, dal professor Quaresiming, che è professore dell'Università di Padova, una sede qui di Vicenza, e vorrei chiedere a lui quanto è aumentato negli anni il rapporto tra l'Università e l'attività industriale e l'attività imprenditoriale di Vicenza, ma non solo del Veneto in generale. Grazie. Chiedo se gentilmente magari lanciano le slide della presentazione, che ho supporto delle poche cose che voglio raccontarvi. Diciamo che negli ultimi anni sicuramente l'attività di collaborazione università-impresa è aumentata. E questo si basa sulla necessità sicuramente di portare innovazione all'interno delle aziende e al fatto che nelle aziende comincia ad esserci una generazione di responsabili, di manager e anche di ingegneri che di fatto portano quello che cerchiamo di raccontargli nelle aule universitarie e che portiamo dai laboratori alle aule universitarie. Velocemente, io avevo preparato qualche slide, vediamo se questo è quello qua, due parole sul Dipartimento, non tanto per i numeri che sono facilmente individuabili, quanto per il fatto che siamo uno dei dipartimenti di eccellenza individuati dal Ministero per qualità della ricerca e dell'attività svolta presso la sede. Abbiamo l'adottazione di laboratori significativa, abbiamo il vantaggio di essere a Vicenza dal 99, quindi tempi molto recenti e quindi tutto quello che abbiamo è forzatamente costruito e implementato dopo quella data. Abbiamo una capacità di autofinanziamento notevole e questo ci consente di arrivare ad avere un dato di, scusate, eccolo qua, di essere un, di appunto di avere di laboratori ad alto livello. Siamo tra i dipartimenti dell'Ateneo che ha il maggiore livello di collaborazione con le imprese e un dato su cui, del quale sono estremamente orgoglioso per il lavoro che fanno i miei colleghi, è il fatto che, a parte il numero di contratti significativo che abbiamo in ambito industriale, abbiamo un tasso di ritorno di oltre il 50%, cioè le aziende che lavorano con noi tornano una volta su due, quindi questo sicuramente ci dà una grossa soddisfazione. Quello che volevo raccontarvi a supporto della domanda, per rispondere a qualche misura alla domanda, era quali le modalità con cui è possibile collaborare e potenziare questo intervento. Ma parlate dello stesso linguaggio tra università e impresa, linguaggio, perché molto spesso si dice, anche noi scriviamo, che gli imprenditori si lamentano, noi abbiamo delle esigenze, e l'università ne ha un altro. Io sostengo che negli ultimi anni in particolare questa distanza si è ridotta anche per reciproci interessi, sia dal punto di vista imprenditoriale che dal punto di vista della ricerca. Può confermare che c'è stata questa riduzione della distanza? Assolutamente sì e confermo il fatto che è l'elemento critico, nel senso che dal punto di vista tecnico è abbastanza facile ragionare, nel senso mettere sul tavolo i problemi e il nostro lavoro è trovare soluzioni. Quello che conta è riuscire a comprendere i ruoli reciproci, come dicevo prima, e fare in modo che questo porti a una comprensione di cosa può fare l'università per l'azienda e cosa può fare l'azienda per l'università. Diciamo noi, collaborando con le aziende, abbiamo grandissimi stimoli in ottica di attività di ricerca, ma anche di attività formativa. E questo sicuramente potenzia il risultato finale. C'è una comprensione, come dicevo, un aumento, come citava lei, di capacità di comprensione reciproca e questa è una condizione fondamentale che avevo messo alla fine della mia discussione, della presentazione, ma in realtà l'abbiamo toccato subito. I percorsi sono un altro strumento che aiuta molto in questo avvicinamento, nel senso che le possibilità di collaborazione tra il mondo universitario di ricerca e le aziende può essere dipinto in vari livelli, da un approccio short term, quindi basato sulla disponibilità di attrezzature all'avanguardia che magari l'azienda X ha bisogno di utilizzare, alle collaborazioni che preferiamo noi, cioè quelle a medio e lungo termine, nelle quali si stavola una collaborazione che dura 4-5 anni e durante i quali c'è il tempo per promuovere tutte, per migliorare la comprensione e affrontare i problemi in maniera spinta. Questo porta la chiave di lettura su un altro aspetto che è quello dei tempi. Tipicamente le esigenze industriali sono ieri, non è mai domani, perché le cose devono essere chiusi al giorno prima. Ecco, questo è un settore nel quale noi abbiamo difficoltà a interagire, perché? Perché non è il nostro mestiere, il nostro mestiere è quello di fare attività su tempi che abbiano il respiro necessario per fare ricerca vera. Presidente Babà, vengo a lei. Lei ha costituito dal 2011 questa unione di imprenditori, anche questo per il Veneto è una sfida, perché molto spesso conosciamo l'individualismo che è anche una dote per certi versi dei Veneti, però riuscire a mettere insieme 60 imprenditori e valutare progetti imprenditoriali non è semplice. Dicevo prima che siamo in un momento difficile, siamo in un momento del Covid che ha portato a un rallentamento in un paese come il nostro, dove purtroppo da anni cresciamo poco. Non è che riusciamo a, lei che sta valutando diversi progetti, non è che riusciamo a trasformare questa purtroppo sosta forzata in una accelerazione verso il futuro, visto che eravamo rallentati in passato. È un ragionamento troppo ottimista o si può sperare? Il ragionamento è giusto, è chiaro che è un'opportunità, allo stesso tempo è una minaccia, perché proprio ha ragione, nel senso che sembra quasi che questa pausa ci imponga una accelerazione quando ripartirà tutto, e speriamo il più presto possibile, che in un certo senso pone proprio una differenza tra quello che era il modo di lavorare il lavoro di prima, la fabbrica di prima e la fabbrica del futuro. Noi abbiamo passato tutto il Novecento a costruire hardware. Le prime due rivoluzioni industriali si sono concentrate su un elemento produttivo, sulla ricerca dell'estremizzazione della capacità produttiva, sui modelli per produrre di più, perché c'era richiesta sul mercato, alle altre due rivoluzioni industriali, quindi la prima con Internet e poi con Internet of Things, la terza e la quarta rivoluzioni industriali, che hanno introdotto il software, quindi stiamo a cavallo tra il Novecento e il Duemila, e gli anni prossimi, i prossimi almeno cento anni, saranno marcati da questo. Passare dall'hardware al software necessita l'idea di riuscire a comprendere che una non può stare senza l'altra, perché la nuova fabbrica è hardware più software, cioè è intelligenza, è tecnologia applicata alla costruzione del prodotto, all'esecuzione del prodotto, è tecnologia applicata all'interazione di mercato e produzione. E questa estremizzazione ha fatto sì che in questa prima parte degli anni Duemila sono emerse fortemente le società di software. Si sono introdotte in maniera così importante che oggi rappresentano la più forte, la più grande e dal punto di vista anche esemplificativo, è incredibile il valore che esprimono, il più grande valore che esprimono le società nel mondo, sono società di software. La capitalizzazione che hanno le prime cinque, ma è una cosa ben nota, società fanno software, non costruiscono prodotto, intermediano, guardano dati, elaborano dati e giocano sui dati di tutti che forniamo noi. Creano un nuovo mercato e l'ibridazione, per fare un esempio, per cercare di riuscire a comprendere di cosa secondo me stiamo parlando, l'ibridazione funziona quando hai per esempio in un settore maturo che ha percorso tutte le quattro rivoluzioni industriali, come quello dell'automotive, hai un protagonista emergente che si chiama Tesla, che è esattamente una fabbrica ibrida, cioè è una fabbrica di hardware e software messa insieme. a tecnologia con ovviamente un'implementazione della tecnologia elettrica che consente poi dell'utilizzo e l'implementazione molto forte, innovativo e tecnologico su una cosa che va su quattro ruote a cui eravamo abituati ormai da 150 anni. Ma lei appunto che spesso deve valutare dei progetti che le vengono sottoposti nel consorzio V-Network, voglio dire che peso dà al futuro di questi progetti, nel senso immagino che al di là della sostenibilità economica, del ritorno immediato, immagino che ci debba essere anche una valutazione di quelle che potrebbe essere l'innovazione, ma parlo proprio di novità assoluta. Quindi quanto conta nella valutazione del progetto che fate spesso voi per giudicare se il progetto imprenditoriale è valido oppure no? Che peso date al futuro proprio come progetto? Beh, conta molto il passato perché è l'espressione delle capacità delle persone, perché le aziende sono fatte di persone, bisogna sempre ricordarselo, e quindi il know-how che esprimono la loro competenza è esattamente la fotografia di quello che è stato. Conta relativamente sul fatto di avere la capacità di individuare quello che può essere il futuro dell'impresa. E qui bisogna riuscire a comprendere quanto sia scalabile e quanto sia inserita in quello che dicevo prima, tra questo grande divario che c'è e ci sarà, tra imprese che hanno futuro e imprese che gestiscono il loro declino. Perché questa cosa si sta ponendo davanti, purtroppo, questa pausa di una cosa che poi era già in accelerazione, in forte accelerazione i primi vent'anni degli anni 2000. C'è una transizione, quasi obbligatoria in un certo senso, molto selettiva, e bisogna stare attenti che questo paese non conservi alcune impianti di produzione, alcune fabbriche, lo dico più banalmente, alcune fabbriche che non possono avere futuro. Perché ci sono interi comparti, interi settori che non possono avere futuro. Perché siamo in un'era di globalizzazione? Perché si è inserito un processo competitivo che è brutale per alcuni tipi di settori, perché c'è una sovraccapacità produttiva che è un fenomeno dal punto di vista mondiale e economico che non era mai stato valutato perché non c'era, non c'era mai stato. Quindi questo elemento di che cos'è, dirimente, che cosa dà la diversità tra la sopravvivenza e ovviamente l'aspetto più florido, come un'azienda può diventare più grande o può insistere su un territorio, passa attraverso l'implementazione della ricerca tecnologica, l'implementazione della ricerca, e quindi è giusto quello che diceva il professore su questa collaborazione accademico-universitaria con le imprese, perché è diventato un obbligo. E dall'altra parte la costruzione proprio dell'implementazione di tecnologia per porre il fine che non è solo il miglioramento produttivo, ma è la costruzione di un prodotto che sia molto software. Banalizzo, ma ovviamente questa descrizione sa bene perché uno si deve interrogare quando va a casa propria e guarda la sua fabbrica, si deve chiedere se è solo hardware o se ha implementazione software o se è un'ibridazione. Questo possa essere anche un suggerimento per i giovani nella ricerca di un futuro impiego, di un futuro indirizzo di studio da prendere. Vengo al professor Roveri che ha una storia particolare che unisce quelle del presidente Baban e col professor Quaresimini, perché per 40 anni ha insegnato chimica all'Università di Bologna e poi a un certo punto, anzi durante, ha unito sia l'attività di ricerca che l'attività imprenditoriale e in particolare sfruttando delle ricerche importanti sul campo. Parlavamo prima del biomimetismo che sembra una parola complessa, in realtà non si tratta altro che sfruttare la natura, copiare la natura, riprodurla e utilizzarla per tanti fini. Io vorrei che raccontassi un po' quella che è stata la sua esperienza. È aperto? È aperto? È aperto. Ah, benissimo. Inese, io ho avuto la fortuna di essermi laureato nel 72 e appena laureato, proprio dopo un anno o due, si è già entrato nel mondo della ricerca con un professore che da loro veniva da Napoli, che era un professore di chimica che non faceva la chimica tradizionale, non faceva la chimica nata da poco, aveva vinto il premio Nobel, tutti facevano catalizzatori. E no, lui si interessava delle cose biologiche, delle cose... E mi disse, vai in Inghilterra nel 75, vicino a Londra, che c'è un gruppo di giovani che apre un nuovo manifesto, biomimetismo. Erano ingegneri chimici, fisici, geologi, che avevano aperto una filosofia di ricerca per fare innovazione, cioè mirata all'innovazione. E per questo poi dopo mi voglio agganciare a quello che ha detto lei. Non è che bisogna fare innovazione a tutti i costi, però c'è uno spirito per fare innovazione. Dice, cos'è questo biomimetismo? Ebbe poca fortuna, furono scritti due o tre libri. Io però, vi sono sincero, forse era perché è un neolaureato, si ha lo spirito giovanile, e mi sono innamorato subito di questo nuovo, e me lo sono portato dentro fino adesso, dove adesso si parla di ambiente, di biologia, dove il chimico si riempie la bocca a tutti, ma l'hanno cominciato a riempire da pochi anni, da dieci anni, quindici anni. Cos'è questo? Cioè guardare la natura e ispirarsi alla natura. Perché? Dice perché? No, noi possiamo fare innovazione vedendo come lo fa la natura. La natura usa composti che non costano niente, carbonati, solfati, silicati, tutto quello che è più abbondante su questa terra. Usa l'acqua come solvente. Se invece andate a parlare con un chimico, dici voglio un materiale nuovo, subito benzene, tulene, si inventa una molecola nuova, no? Ecco, non è così la natura. E allora se uno entra in quello spirito lì, capisce che tante cose si possono fare in modo più semplice, e quell'innovazione che lei citava prima, all'inizio del Novecento, io mi ricordo i fumi della Montecatini quando si passava per Ferrara, che è finita quell'epoca lì, dove innovazione bastava dire una cosa nuova, una cosa in più, che poi inquinava, se non inquinavo, aveva delle controindicazioni, interessava meno. Non pensiamo adesso di fare innovazione sporca, cioè, ma non sporca, se fare innovazione preoccupandosi solo se inquina quel tanto che mi è concesso, bisogna cambiare proprio mentalità. Vi faccio un esempio semplice. Posso parlare, non so, la natura fa dei sistemi che ancora non riusciamo a fare in laboratorio usando le cose banalissime. Vi faccio un esempio, il riccio di mare, il riccio di mare l'abbiamo presente tutti, con gli aculi, tutti così, di carbonato di calcio, cioè il carbonato di calcio, le scorriere del Dover, di Dover sono tutto carbonato di calcio, no? Lì tra il cemento, lo pesca nei fondali manieri per fare il cemento. Proprio niente. Però questo è un riccio, è un ago, aculeo, che va su crescendo, il quale termina con una pallina tonda che ruota nelle carrapazze dell'animale. ma ruota tantissimo perché lui ci cammina sopra. Lui muove questi spini per camminarci, quindi si muovono a 360 gradi, non 360 ma 200, liberamente. Appena c'è un aggressore, il riccio si mette così, si mette con gli spini rivolti contro l'aggressione e le tine talmente rigidi che si spezzano. Gli spini del riccio di mare si spezzano e possono ricrescere. Allora non vi siete chiesti ma cosa c'è in quel rullino tondo che ruota dentro, che qui lo posso muovere come voglio, che cammina, poi lo tengo così, si rompe lo spino? Fatelo nel laboratorio questo. Quelle sono delle proteine che con la scarica di adrenalina, della paura che il riccio ha dell'aggressione, mette del magnesio dentro a questo bagno di proteine che diventa l'odore. Fatelo una colla che da liquida diventa dura, poi torna liquida semplicemente con del magnesio. Ma si può copiare la natura, professore? Si può copiarla e sfruttarla? Certo che si può copiare, ma con quello spirito lì, non inventando una colla nuova, cioè non inventando una con un marchigene tossico, eccetera, tutto quanto, ma vedendo come con piccole cose io posso modificare una funzionalità. Guardate che i materiali naturali sono autoriparativi. A me viene in mente all'IKEA quel cassetto che si muoveva così, c'era una macchinetta, non so se l'avete visto voi, che faceva vedere come la cerniera resisteva 4 milioni e 920 volte e c'era questo cassetto che andava sempre avanti e indietro e un contatore che diceva quante volte. Ma quello, quando è arrivato a 4 milioni e 900, non so cosa, si rompe ed è finito. In natura invece i materiali, durante l'affaticamento del materiale, la natura interviene con delle modifiche che sono autoriparative. Autoriparative ci sono, ma perché? Perché usa una struttura di formazione, è lì che bisogna fare innovazione, non macroscopica, ma nanodimensionale. Le nostre ossa sono macroscopiche, sono grandi, ma se andate a vedere i primi cristalli sono 20 nanometri, piccolissimi, sono assemblati in un modo che abbiamo imparato adesso, si chiama self-assembling, cioè mettete queste nanoparticelle dentro un contenitore, automaticamente, spontaneamente, si accumulano. E bisogna mettere un tempo. Le interrompo un secondo, ma le lascio la parola su questo. Ci racconta una di quelle che sono state le applicazioni concrete che poi sono state trasformate in attività commerciale. So che lei mi diceva prima che tra fare l'imprenditore e fare la ricerca è un altro mondo. È tutta un'altra cosa. Io non so fare l'imprenditore, io mi inchino davanti agli imprenditori perché quando facevo ricerca mi sono sempre, io ho vissuto, io sono stata una persona fortunatissima tutta la mia vita ho fatto ricerca, ho organizzato gruppi di ricerca, però quando ho detto beh, ci mettiamo in prova e facciamo una start-up così ho visto che è tutta un'altra cosa. Ci sono gli stipendi a fine mese, eccetera, gli attriti, ma che prima non c'erano. Prima bastava che alzassero un dito tutti che andavano all'università. Allora, voglio dire, uno deve fare quello che sa fare nella vita. Io non ho la pretesa e non credo neanche sia giusto che uno sappia fare tutto. Però devi portare anche nel campo dell'imprenditore delle direttive, delle iniziative, perché il mondo della ricerca ha un know-how che si porta dietro, che fa ragionare in modo diverso. Io sono andato, dicevo prima, alla lavassa per dei problemi, c'è un contratto di ricerca, cosa sarà? Una capsula che posso buttare nel compostabile, una capsula così. Il gruppo di ricerca dell'azienda, ricerca e sviluppo, con il paraocchi, parlavano solo di capsule, sapevano solo di polimero, quello lì è meglio di quell'altro, questo e quello. Così, non si va avanti. Sì, farò una capsula nuova, ma come dicevo sempre prima, se andiamo a vedere la natura, guardate il packaging che fa la natura, l'uovo. L'uovo è un packaging che non riusciamo a fare nel laboratorio. Ha una capacità di isolamento, di mantenimento del contenuto, però, allora, ci si può ispirare. Devo dire che questi discorsi sono veramente affascinanti, aprono scenari molto importanti. No, ma io vorrei solo aggiungere questo. Poi torniamo da lei, professor, un secondo solo che volevo chiedere invece al professor Quaresimi che fare qualche esempio senza mai recitare, ma cosa viene chiesto all'università e cosa avete realizzato in collaborazione con l'impresa? Per esempio, un esempio di ricerca per capire, toccare con mano quelli che possono essere gli sviluppi concreti. Allora, diciamo che posso raccontarli, se mi aiutano con le slide, magari faccio anche qualche esempio pratico. Allora, noi abbiamo spesso richieste di aziende che ci chiedono di introdurre in azienda innovazione anche come scouting. Ci dicono quali sono nel nostro settore i possibili campi di sviluppo o cosa vedi in ambito scientifico fra dieci o fra cinque o fra quindici anni. Quindi questa è un'attività sulla quale abbiamo una visibilità sicuramente diversa da quella che può essere un contesto industriale. Una parola dal punto di vista del tipo di attività. Ci sono richieste che servono per domani e richieste che servono fra dieci anni. C'è un termine tecnico che è il TRL, il Technology Readiness Level, che dice quanto applicabile è la tecnologia che stiamo sviluppando. Faccio due esempi, se posso. Uno di una tecnologia che è installata, quindi di applicabilità immediata, che è quella che vedete, ci è stato chiesto da Lamborghini, con il quale abbiamo un contratto di ricerca da tempo, e quindi diciamo di quelli lunghi che piacciono a noi, che consentono di lavorare, di sviluppare un sistema di monitoraggio, di automonitoraggio della sicurezza della sicurezza dei componenti. Il concetto è quello del sistema nervoso. Il sistema nervoso, se io mi pungo un dito, c'è un sensore che porta il segnale al cervello e mi dice che sto male. A quel punto, l'idea qual è? È quella di creare una rete di sistemi di sensori, se vogliamo, all'interno del veicolo, dell'aereo, della bicicletta, che consentono di fare la stessa cosa. L'innovazione qual è? C'è già, nel senso, su questo sistema negli aerei, c'è, ci sono chilometri di cavi. L'obiettivo è quello di sviluppare, che abbiamo portato avanti parlando di materiali innovativi e smart, di materiali che di fatto sono in grado di automonitorare la loro condizione. Usando tecniche sulle quali adesso non entro per motivi di riservatezza, ma anche comunque per un minimo di complessità, è sufficiente adettivare una resina con di nano to be carbonio, renderla conduttiva e misurare la variazione di resistenza elettrica dovuta al danno. Sempre con la natura, parliamo sempre di natura, perché torniamo un po' a quello che era il... Questo è quello che vede il sistema elettrico, diversi livelli di danno, diversi gradi di riduzione e questo, scusate, sto a parte sbagliata, è il... quello che vede l'utente per arrivare... scusate, c'è qualche problema con le slide, andate avanti per cortesia. e questo è uno. L'altro e questo è un qualcosa che troveremo in auto a breve, in tempo tecnico di implementarlo. Altro è, sono attività di ricerca a respiro molto lungo e lì vengo a un punto che era stato sollevato prima di come possono interagire le diverse aziende tra di loro e con i centri di ricerca. Ci sono degli strumenti a livello regionale, veneto, che sono le RIR, le reti innovative regionali nelle quali abbiamo sviluppato due o tre collaborazioni intense e una è Sinfonet in ambito della fonderia nella quale le varie aziende salto, le varie attività, le varie aziende si consorziano e studiano un tema comune e questo è un modo per lavorare insieme. Come ad esempio come migliorare la tecnologia estesa nel tempo in modo da avere comunque un ritorno di alto livello. Altro ancora è la possibilità di sfruttare progetti europei, questa è la rete innovativa regionale nelle quali il consorzio di aziende che vedete molto ampio si consorcia e sviluppa temi comuni oppure a livello di progetti europei nei quali i partner sono nazionali oppure europei e a quel punto il tema è diciamo di applicabilità più futura quindi si può scalare anche nel tempo in funzione delle diverse esigenze. Si capisce bene quindi com'è che l'università sta facendo veramente passi avanti verso un'applicazione pratica verso una ricerca che diventa veramente fruibile e che contribuirà a cambiare il futuro nostro credo di tutti noi ma al presidente Babà invece volevo chiedere ma finanziare il futuro come si fa? Perché i progetti sono tanti le idee le intelligenze magari riescono a partorire innovazioni incredibili però poi ci vuole qualcuno che le finanzi viviamo da anni di tassi di interesse negativo parlo di finanza quindi in un teoricamente un ambiente ideale per reperire i finanziamenti però devono avere prima di ricevere i soldi traverli e non è facile insomma ecco io volevo chiedere a lei che tutti i giorni appunto si occupa anche di finanziare le imprese che fanno parte del suo network a che punto siamo? Che tipo di finanza c'è per il futuro? Beh allora diciamo che un buon progetto non ha complessità finanziarie e non ha neanche difficoltà ad essere finanziato e forse per riuscire a stare in tema con quello che hanno detto i due professori c'è una difficoltà di comprensione da parte del mondo della finanza rispetto ai tempi di esecuzione perché la finanza non ha tempo e non vuole tempo nel senso che abbiamo capito che la ricerca per esempio ha una modalità di implementazione sperimentale empirica deve essere medio e lungo termine oggi invece il mondo cambia a una velocità tale che questa cosa viene relativamente consentita cioè la digerisce solo quando è alla fine quindi parliamo dal punto di vista di finanziamento di chi sostiene e qui dovrebbe intervenire per forza ovviamente una politica più generalista più statale è giusto che le accademie cioè è giusto che lo Stato investa in questa modalità educativa e di ricerca perché l'innovazione è la ricerca applicata in sistemi produttivi perché si fa la ricerca può anche fallire la ricerca è tentativo è una costruzione sperimentale l'innovazione invece è un'implementazione che è molto disciplinata è già la ricerca che ha una possibile applicazione sono stati dati degli esempi eccellenti che vanno nella direzione giustissima e non sono contraria esattamente a quello che dicevo prima penso al Nasdaq ci sono alti indici di fallimento perché parliamo di Nasdaq come di un grande cosa però in realtà dietro una che riesce ce ne sono dieci che falliscono e negli Stati Uniti il fallimento non è uno stigma nel senso che poi voglio dire viene sempre data l'opportunità di ripartire però c'è anche una maggiore come dire disponibilità a finanziare c'è un problema io ho capito benissimo cosa intende ma c'è un problema ha poco a che fare con l'innovazione però c'è un problema di modularità della finanza che è particolarmente preoccupante secondo me perché nel percorso che abbiamo citato prima quindi partiamo dai primi novecento perché parliamo dell'era moderna senza stare a parlare che ci sono qualche migliaio di anni per arrivare qui però nell'era moderna questa parte finale la finanza si è introdotta con un metodo che sta usando molto il digital da questo punto di vista per autoalimentarsi e nella costruzione della modalità che è un po' più di modello anglosassone da questo punto di vista di scommettere per forza sul futuro inventa dei prodotti che costruiscono delle valorizzazioni che sono completamente fuori rispetto a quello che sapevamo noi cioè le fabbriche che producono prodotto che hanno una solidità attraverso un'espressione bilancistica ti dicono quanto valgono nel mondo sappiamo che non c'è questa correlazione ci sono moltissime aziende quello che ho citato prima non valgono quello che guadagnano valgono nella possibile prospettiva quello che guadagneranno sapendo che poi questa cosa potrebbe anche fallire ma noi siamo arrivati a un'estremizzazione dove una singola società vale il prodotto interno lordo di siamo 196 stati 198 nel mondo di almeno i primi di più dei primi 190 stati c'è una polla sopra di noi c'è qualcosa che non funziona ma va in questo tipo di direzione perché è anche il pensiero di questa pausa che potremmo anche prenderci dal punto di vista anche di filosofia da un certo punto di vista di come si interviene perché questa crescita del PIL ha una obbligatorietà di sostenibilità noi non cresciamo e abbiamo un problema perché il nostro modello sociale non è sostenibile non è che ci interessa crescere per guadagnare di più il problema è che mancano i servizi essenziali se non cresciamo manca il fatto di poter sperimentare di investire su quella cosa migliore l'investimento migliore che possiamo fare che è la scuola quindi in questo tipo di logica avere un'estremizzazione da un'altra parte che ha un'espressione del valore che non è legato al reale è estremamente difficile da comprendere secondo me è anche pericoloso quindi per ritornare a quella logica che è stata espressa nei due interventi molto interessanti secondo me sono estremamente innovativi perché sono tutti e due digital anche il biomimetismo è fortemente digital non è vero che perché si esprime la natura non sia da questo punto di vista molto innovativo lo è e devo dire che il digital per parlare di modernità da questo punto di vista imita esattamente questo perché il digital twins fa questo cioè sfruttano la capacità di calcolo per riuscire a costruire lo semplifico una simulazione che altrimenti non era possibile e questo sarà sulla parte della natura perché la natura fa una cosa semplice tipo le aculi del riccio ma ha una complessità di generazione di ripetibilità che è possibile oggi perché il mondo ha una capacità di calcolo estrema prima non era possibile altrimenti si andava per sperimentazioni fallimentari spesso che incidentalmente provocavano qualcosa come la quasi totalità dei brevetti che sono arrivati forse fino agli anni 60 80 nell'era che conosciamo molto recente sono incidentali non pensate che siano scoperte che erano mirate a quelle i brevetti più interessanti sono successi perché si sperimentava una cosa e se ne è scoperta un'altra soprattutto nel mondo della chimica quindi noi viviamo questa comprensione di questo switch questa transizione l'unica cosa che dobbiamo metterci in testa che è molto veloce dobbiamo far coincidere quello che è il tempo lento giusto della ricerca all'idea che questa velocità deve solo essere veloce nell'implementazione non nel distruggere quel sistema che è quello che funziona professore vi rilascio l'ultimo perché volevo che a proposito di economia digitale volevo che parlasse del dentifricio nel senso che è un'applicazione concreta fatta però attraverso lo studio della natura e lui ha ricavato un prodotto particolare uno spot del suo prodotto diciamo che ha avuto più successo per anni ho studiato il tessuto osseo come dicevo vedere come si formava l'osso cioè quali erano le nanoparticelle che poi si ingrandivano eccetera e studiamo corrisoli di Bologna per fare delle applicazioni per fare le protesi osse e gli interventi osse e in laboratorio sono stato capace di fare del biomimetismo cioè fare queste particelle talmente simili non solo per composizione che è un fosfato di calcio per struttura che è un idrosepatite per dimensioni 10-20 nanometri aria superficiale 120 metri quadri grammo cioè un grammo di queste particelle all'area di un appartamento pensate che reattività biologica hanno queste tutte queste cose sono riuscite a fare in laboratorio mettendo del disordine all'interno della sintesi e questo è andato è stato lasciamostare anche il dentifricio mi ha permesso di mettere degli antitumorali ad esempio attaccato a queste particelle e queste le cedevano cedevano gli antitumorali queste particelle messe in un vasetto di indagine con le cellule e le cellule staminali diventavano cellule osse cioè prendevi in giro le cellule ingarnavi le cellule che credevano di stare sulle nanoparticelle osse cioè la natura lavora come ricercatori della natura sono le cellule noi abbiamo i ricercatori ma non hanno le cellule noi le cellule nel laboratorio non sappiamo farle ma siamo arrivati a fargli fare quello che vogliamo noi parlare con le cellule interagire farle agire in un certo modo e non è poco questo per il dentifricio quando un imprenditore di Bologna mi ha detto io finanzio due due ricercatori per per un qualcosa sui dentifrici sapeva bene anche lui però che sia una cosa seria io gli ho venduto subito queste particelle queste particelle che nessuna industria farmaceutica mi aveva chiesto le abbiamo messe nel dentifricio e queste quando sono di idrosipatia talmente simile a quella del nostro dente che quando c'è una screpolatura o nella dentina scoperta aderiscono e lasciano un po' di zinco perché ho sostituito come fa la natura il difensore antibiologico antibatterico naturale è lo zinco ogni cento atomi di calcio ce n'è l'uno di zinco ecco quando arrivano i batteri che sono acidi le sciolgono essi è lo zinco e io ho un drug delivery immediato cioè la placca non si forma io mangio dopo mangiato normalmente si sente quella placca batterica lavatevi una volta al giorno i denti con queste particelle la placca non si forma perché viene distrutta da questo zinco e la ditta che l'ha pagato il brevetto da zero cioè da prodotto non esistente nel 2006 l'abbiamo fatta la preparazione adesso fa 20 milioni di fatturata all'anno solo di quel prodotto devo dire che è stata una chiacchierata molto interessante starei qui un'altra ora a parlare perché in questo momento di particolare difficoltà che stiamo vivendo tutti questo squarcio nel futuro ma che in realtà è molto presente anche perché percepisco che si sta costruendo il futuro ma il futuro in parte è già qui per questo io vi ringrazio e credo che per tutti sia stata un'occasione di guardare avanti con un'ottica di ottimismo e di speranza grazie a tutti